Utilizzare il gioco per insegnare ai bambini il concetto di stagionalità di frutta e verdura. Questa è l'iniziativa avviata stamane da Coldiretti Belluno e Campagna Amica presso l'agrimercato di Piazza Piloni. L'obiettivo è sempre quello di educazione, quindi l'educazione alla Campagna Amica e a riconoscere i prodotti locali e possibilmente di stagione. Oggi abbiamo introdotto per esempio dei prodotti che non sono né locali né di stagione e i bambini si sono trasformati in piccoli detective e hanno ricercato tra i banchi i prodotti strani oppure gli intrusi. L'intruso di oggi era il limone e i bambini sono stati molto bravi e lo hanno riconosciuto subito. L'appuntamento con la vendita diretta a chilometro zero diventa occasione di gioco grazie all'animazione dei tutor della spesa dei Coldiretti. Un percorso a punteggio partito nel mese di agosto, incentrato su frutta e ortaggi tipici del mese e che si protrarrà fino al primo sabato di settembre, quando ai bambini che vi avranno preso parte verrà consegnato un simpatico gadget. È un programma di animazione che abbiamo voluto mettere in atto per il mese di agosto per intrattenere anche gli utenti del mercato, grandi, piccini e possibilmente anche i turisti.